Può capitare di essere colpiti da un forte trauma, come per esempio quello di un incidente stradale o di un lutto. Come è opportuno affrontare questi momenti? Partiamo da questo presupposto che la maggior parte degli approcci psicologici e psicoterapeutici solitamente lavora sul presente, sul qui e ora, si dice tecnicamente. Gli unici casi o i pochi casi in cui si lavora sul passato non è tanto su un passato in quanto tale, quanto su un passato che invade la sfera del presente e invalida la persona nel presente. Tra i casi che possiamo definire esemplari presenti in questa situazione, vi sono appunto i casi che riguardano dei traumi subiti e che possono quindi avere ripercussioni soprattutto nel presente. Solitamente il trauma è un qualcosa che la persona tende nel presente a rivivere sotto forma di flash, quindi di pensieri immagini, sensazioni o emozioni che invadono proprio la sfera della coscienza, oppure sotto forma di sogni, spesso proprio veri e propri incubi, in cui la persona tende a rivivere tutto l'evento traumatico. Aggiungiamo a questo tutti i vari stimoli del mondo esterno che sotto forma di odori, colori, anche semplicemente delle canzoni o delle frasi che possono ricordare alla mia memoria quanto ho vissuto e possono quindi far precipitare la persona in una condizione per l'appunto post-traumatica da stress. Solitamente gli atteggiamenti che la persona assume per cercare di fronteggiare il problema sono degli atteggiamenti volti a controllare l'accaduto o per meglio dire a fuggire dall'accaduto, a tentare di non riviverlo e possiamo assistere a tentativi in cui la persona cerca di scacciare soprattutto i pensieri, le emozioni, tutto ciò che tende a voler ricordare l'avvenimento. La realtà è che come abbiamo visto anche per altre situazioni, proprio i tentativi di scacciare ciò che mi danneggia e è per me nocivo o fonte di preoccupazione o stress non fa altro che rendere questi pensieri ancora più vivi, ancora più vividi. È come se tentassi di grattare una ferita che è ancora aperta, spesso tenderò quindi a farla bruciare ancora di più. Il processo di cicatrizzazione della ferita passa non tanto da evitare quanto si è vissuto, quanto da saperlo fronteggiare anche qui solitamente con l'aiuto di uno specialista, di qualcuno che ha gli strumenti per poterci far attraversare appunto ciò che abbiamo subito. Coloro che sono vicini a chi ha subito un trauma, come si devono relazionare nei suoi confronti? Innanzitutto le persone che sono vicine o legate a chi ha subito il trauma possono assumere atteggiamenti disfunzionali come minimizzare o addirittura negare l'evento o l'avvenimento oppure possono tendere a spronare in malo modo o con insistenza la persona che ha subito il trauma dimenticando che chi ha subito il trauma in prima persona è per l'appunto traumatizzato e non è un caso che si utilizza questa parola stessa. Quello che conta quindi non è tanto il punto di vista delle persone vicine quanto il punto di vista di chi sta soffrendo. L'indicazione è di rivolgersi a una persona, a uno specialista che possa quindi aiutare la persona che ha subito l'evento a superarlo. Come è possibile superarlo? Beh, a questo proposito vale un aforisma molto importante di Pavese che diceva se tu vuoi superare un evento, una cosa, non devi evitarlo ma devi attraversarlo.